Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Toucans. Nel video oggi amici continuiamo la campagna di Call of Duty World War 2. Vi ricordo per chi si fosse perso l'ultimo video, lascio in descrizione il link dell'ultimo video, mentre per chi si fosse perso la campagna in toto, lascio anche il link della playlist. Quindi amici, come sempre, ciancio alle ciance, banda alle bande, andiamo qua sulla Roccaforte, perché nell'ultimo video amici abbiamo portato a termine la missione Operazione Colbert. Quindi adesso dobbiamo andare alla Roccaforte e vediamo un secondo. Ok, quindi iniziamo la missione. Vi ricordo amici che qua riambio la missione amici perché, per sbaglio, sono andato un pochino avanti senza registrare. Comunque riambio la missione di difficoltà a soldato. Vi ricordo amici che nell'ultimo video eravamo chiamati nei pressi di Marigny e adesso dobbiamo appunto addentrarci da quello che ho potuto più o meno leggere e capire poi nella scelta di Marigny. Solito sogno, più o meno, se continuo a tormentarmi. Sto bene ora, riposo un po'. No, Pearson deve capire che sono pronto. Lui amici, Zuzman, tipo, è in conflitto col suo superiore perché lui vuole far vedere che lui riesce a combattere, ma... Pearson dice sì, se puoi combattere. Un uomo deve affrontare le sue battaglie. Però, visto che Zuzman ha ricevuto tipo una coltellata al fegato... Eh, vedete, per fortuna c'eri tu a coprirmi. Poi c'è il vecchio San Michele che veglia su di noi, quindi non c'è niente di cui preoccuparsi. Non sapevo che credeste in quella roba. Non rifiuto nessun tipo di aiuto. Vuoi parlarmi del sogno o no? No. I lupi ci uccidevano al bestiame. Io e mio fratello Pogli davamo la caccia quando ci hanno accerchiato. Cioè, amici, guardate che grafica. Ci sto provando! E a parte che quello non è un lupo, amici, è tipo un licantro, cioè... È una bestia. Cioè, puoi vedere, era enorme. Cioè... Comunque, amici, ti torno a dire che la grafica è... Ascoltami, ragazzo. È qualcosa di spettacolare. Proprio. Dobbiamo tornare a casa, fratellino. Da quel giorno, mi ripromesi di non deludere mai più Paul. Ora non si tratta solo di convincere lui, ma anche Pearson. Ok. Quindi, iniziamo, amici, la missione La Roccaforte, 26 luglio 44. Marigny-Francia. Noi dovremmo dare fuoco di copertura da quella chiesa. Domande? Bene, io ne ho una. Risparmiatela e avrai una stella d'ora. Anch'io, anch'io ne ho una. Ma se attacchiamo la chiesa... E ci faremo sconsacrare? No? Allora, innanzitutto, Aiello. Dai qua. Vai. E lanciamolo, tipo, qua. Ok. Vai. Copriamoci e... Oh, che cavolo. Allora, utilizziamo, amici, il kit medico. Il primo kit medico di questa missione, amici. Stanno tutti là, eh. Aspettate, carichiamo qua, amici, come sempre. Che... Vai. Allora, stanno un bel po' stanno qua dentro, eh. Oh, maledetto. Vai. Allora, uno davanti e uno là dietro. Sempre il kit medico. Da dove? Da là dietro. Vai, venghino, signori, venghino. Oh, oh, oh. No, pistola. Amici, come sempre la pistola. Ci viene in aiuto. Vai, nella schiena, proprio. Questo cos'è? Oh, oh, oh. Bella, bella. Bella, questo, ok, vabbè, mi potevo pagare prima, ma, ovviamente, me ne sono accorto solo adesso. Allora, eh, mi sarebbe, però, o qualche, però, qualche munizione, oppure un'arma, perché mi sa che, attaccare qua con la cosa. Ok. Il fucile a can, cioè, quello, vai, tipo il fucile a pompa. Vai, vai, in guerra, boh. Vediamo un attimo, vai qua. Sì, è proprio, fa danni, però. Cioè, cuscilla a pompa, per i scontri più o meno della lunga distanza. Oh, ma guarda quelli, ma che ca... Oh, no, la granata. Vai, bella. Crepa. Dai, in faccia. Aspettate, eh. Qua, qua. Pistola overpower, amici, come mi ha detto Simone. Vai, nella schiena. Vai, qua. Eh, solo adesso ho finito i puglietti, anche, della pistola. Qua, altre cose del pompa. Vai, nelle ginocchia. Proprio, in tutte e due, amici. Che è successo? Io sempre così muoio. Cioè, sempre in colpa delle granate? Dai, però non è giusto. Cioè, non c'era il segnale, amici, della granata, eh. Non è giusto. Questo, amici, non accetto come morte. Dai, non è... Ma chi è che mi spara? Cioè, noi stiamo andando avanti e abbiamo la gente alle spalle, ma vedetevi conto qua. Cioè, che poi ho alleati inutili. Vai, qua. Qua. E anche un pochino più sotto. Fumogeno. Lo vanno, lo si, lo lanciamo. Dammi anche il kit medico. Juice Man. Ma che cavolo? Oh. Aspettate, aspettate, eh. No, innanzitutto devo portare in salvo a me, cioè, proprio. Dai, dai, trasciniamo l'alleato, va. Cioè, abbiamo salvato il Juice Man e non possiamo salvare questo? Eh, no, dai, su. Dai, però, entra. Tieni. Eh, rimani qua, basta. Qua è più che bene. Non fa niente. Ma, no, sei morto. Cioè, io ho fatto tanto per salvarlo, è morto? Ma se è un... Ma dai, vai, andà via. Questa, amici, l'avevo vista, però. Questa, amici, l'avevo vista. Aspettate, va. Allora. Uno. Due. Vai. Dammi questo, andiamo avanti al lag in baggio qua, perché se no... Vai. Qua. E lanciamo di qua, vai. Un kit medico. Uno, vai. Vai, lanciamo la granata. Juice Man, dammi il kit medico. Vai, qua. Qua. Di qua. Eh, il fumogeno è più che non posso. Vediamo. Oh, qua, va. È bella in faccia. La sopra. Sì, quello col bazuca. Vai, saliamo quindi qua sopra. Insieme cingolato, ok. Vai, stendiamo tutti, dai. Vai, 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 vai. Gli altri. Qua. Qua. Vai. Vai. Oh, è caduto il muro. Vai, grande. Qualcun altro? Vai, là è morto. Qua è lo stesso, per la stessa fine. Ok, quindi dobbiamo andare qua avanti. Raggiungi Pearson. Ok, quindi stiamo più o meno messi bene, dai. Guardami il kit medico, Giusman. Niente, vado avanti io. Vai la porta, dai. Vedo anche un kit medico, ma a quanto pare mi sarei not troppi. Tre. Vabbè, non fa niente. Vai, munizioni. No. Aspettate. Oh, oh. Vai. Qua. No, non l'ho preso. Adesso sì. Ok. Munizioni. Allora, c'è un tizio che viene di qua. Dovrebbe venire, in teoria. No. Allora, aspettate. Ok, bella. Allora, aspettate. Avrei detto. Oh, ma che cavolo. Lancia fiamme. Eh, vabbè. Sta da fuoco a tutto. Sta da fuoco. Dai, non si fa così, però, eh. Vai, beccato il lancia fiamme qua. Vai, carica. Oh, oh, oh. Senti, pistola qua. Ok. È la migliore risoluzione per tutta la pistola. Vai qua. Un. No. Non l'ho preso. Vai, pistola. Dovrebbe essere morto, no? Ok, adesso sì. Carichiamo. Allora, il telescopio sta là. È morto? Sì, dai. No, c'è un altro tizio. Non è morto, vai. Adesso sì. Carichiamo. Andiamo a metterla pistola. Altri due. Uno dovrebbe essere morto. Diamo un altro. Anche di là, ok. Vai, Jigen. Ok, quindi andiamo avanti. Adesso, amici, ci troviamo tipo una schiera di tedeschi, no? Ok. Eh, per forza. Vai, rinchiudiamoci dentro qua. Allora, su per le scale, quindi per di qua. Sul campanile, amici, dobbiamo qua andare. No. Ma, amici, immaginate, c'è tipo Quasimodo, il gobbo di Notre Dame, a darci una mano. Prego, venite sul mio campanile. Ci sono io, questa è la mia dimora. Vai, vai. Il campanile, vai, din-don-dan. Allora, entriamo. Ok, il cecchino. Allora, questi. Vai. Ciao, amici. Cioè, questi qua, amici, li prendo proprio, cioè, cioè, vedete? Cioè, vorrei vedere, nella seconda guerra mondiale, un tizio colpito dal cecchino. Come fanno a rimanere in piedi? Vai. Oh, vedete? Boom. Vai. Dovrei averlo ucciso, in teoria. All'altro cecchino sta là, l'ho visto. E un altro sta sotto. E un altro sta sopra. In quanti sono? In 50? Vai, qua. L'ho beccato, sì. Però non muo- Non muo- Non muo- Come fanno a morire? Cioè, un cecchino, proprio. Aspetta, è qua. Quello che non l'ho preso, ma... Aspetta, lancia fiamme, no. Dov'è? Qua. Vai. Cioè, vedete? Cioè, l'ho preso, tipo, nel fianco. Volevi vedere, nella seconda guerra... Ancora! Vai. Eh, ci sto... Lo sto provo... Ci sto provando. Anzi, ci sto anche riuscendo, ma... Cioè, eh... Quello, tipo, nella spagna, niente, vabbè. Vai, fatto. Cioè, amici, ripeto, vorrei vedere, a seconda guerra mondiale, un tizio che ha ricevuto, tipo, un colpo di cerchino nel fegato, nel... Tipo, sul collo, sulla spalla, ma anche nel ginocchio. E si rialza e comincia a sparare. E niente. Aspettate. Vai. Vai, fate a cambio. Vai, vai, fate a cambio, fate a cambio. E un attimo. Vai qua. Bella. Oh, un altro mio alleato, col cecchino. Non è protetto dallo squadra. Come ho fatto a non proteggere la mia squadra? Stavo uccidendo tutti. Vabbè, allora, continuiamo. Cioè, continuiamo. Riprendiamo. Quanto pari, io non ho protetto, amici, la mia squadra. E li ho presi tutti. Cioè... Preziusman, eh... Si coprisse un secondo. Vai. Fatto. 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 No, non l'ho fatto. Questo... Sta per schiattare, Ziusman. Fatto. Bella. Ok. Vai, vai avanti, Ziusman. Allora, aspetta. Qua. Vai. Cato, perché sbagliarla anche qua il cecchino. Vai, 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 vai. Dovemmo avercela... No, dovemmo... No. No, ancora. Vai, vai, vai. Ma ne so tanti, però. Qua. La vedete? Lo colpisco, si rialza. Pure, sì. Dai, circondati. È un'emesa. Qua schiatti, però. Ziusman. Aspettate, eh. Eh, so, 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 ci sono andato vicino. Vai. Vai. Non muore. Cioè, vedete? Il maletto non muore. Vai. Allora, facciamo così, amici. Prendiamo fiato, almeno la mira è un pochino migliore. Aspettate, eh. Allora, qua è morto, sono morti. No, il mio, il mio. Aspetta, ho sbagliato. Ho sparato il mio alleato. Ma come serve copertura? Da chi? Cioè, stanno arrivando gli alleati. Da dove? Dove spara? Non li vedo. Eh, hanno fatto. Abbiamo fatto, no. No? Allora, aspettate, mi dice... Eh, ok, ha distrutto. Eh, infatti, l'avevamo fatto, dai. Scappa dalla chiesa. Oddio, via. Oh, cavolo. Oh, cavolo. No, Quasimodo, aiutaci tu. Oh, oh, qua, qua. Vai, vai, col... Ok, beh, ce l'ho fatta, amici, a salvarmi. Cioè, amici, avete visto quel tizio che è stato tipo... No, ho decapitato. Tipo, gli è saltato dalla testa. Mamma mia. Via, 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 via. Muoviti. Muovi il culo. Dai. Sta cadendo tutto. Sta crollando. Via. Oh. No. Aia. Ahia. Muo entro, tipo, la campana mi cade addosso. Vai. Oddio. Vai, vai, quadrato, quadrato, veloce, 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 ok. Dai, dai, sta sprofondando, ma che... Via, 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 via. Dove, dove, sotto? Sotto, via, 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 via. Eh, no, eh, dai, non è colpa mia. Qua. Bella, 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 bella Pearson. Eh, proprio. Siamo salvati, amici, per due per tre. Noi, noi. Mamma mia. Questa è bella. Ho perso due ottimi soldati. Ora diamoci una massa. Questa è stata bella, è stata bella. E si portiamo quei cannoni. Ho le ane, si è molto andro e le custode. Ok, amici, quindi questo video può concludersi qua. È stato un bel video, Alvinio, non mi dispiace, molta azione, molta... Soprattutto la parte finale, molta... Con pathos, molta cosa. Amici, fatemi sapere se vi è piaciuta appunto questa parte della campagna. Come sempre, lasciate un like, commentate, iscrivetevi al mio canale e alla mia pagina Facebook. E niente, amici, io vi ringrazio della visione. Ripeto, spero che il video vi sia piaciuto. E ci vediamo al prossimo. Bella! Ciao! Grazie a tutti.